ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario amberex b complex informazioni commerciali titolare agrolavo spa concessionario agrolavo spa confezioni amberex b complexos 25 kg amberex b complexos 5 kg formulazione additivi per uno chilogrammi uguale vitamina b1 5.000 mg vitamina b2 5.000 mg vitamina b6 5.000 mg vitamina pp 20.000 mg acido di pantotenico 10.000 mg vitamina b12 10 mg acido folico 1000 mg componenti lattosio autolisato essiccato di lievito da colture di cluiver omices fragilis e saccaro omices cerevisiae fruttosio saccarosio indicazioni mangime complementare in polvere idrosolubile contenente vitamine del gruppo b ad alta concentrazione in associazione con un pool di aminoacidi da autolisato di lievito si usa in tutte le specie animali come supporto alimentare al controllo delle tossicosi posologia distribuire in aggiunta al mangime solido barra liquido latteri costituito in ragione di g 50 100 per 100 kg sulla base dei seguenti protocolli d'utilizzo vitelli g45 per capo al pasto per 5 10 giorni vacche da latte g 30 40 per capo al giorno per 20 30 giorni pecore barra capre g 10 15 per capo al giorno per tre settimane bovini da carne g 20 30 per capo al giorno per 10 15 giorni suini g 200 300 per cubi mangime per sette giorni poi g 150 cubi mangime per altri sette giorni oppure g 100 150 100 l di supporto liquido per sette giorni poi g 75 100 l di supporto liquido per altri sette giorni volatili g 25 50 per cento litri di supporto liquido per 5 7 giorni pesci g 50 100 per cubi mangime conigli e animali da pelliccia g 50 per cento litri di supporto liquido fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato